finerdì sette dicembre settimoceno del vlog di Mombra è tardissimo, devo farli arrabbiarlo perchè lo sticcolatore è stavolta vedete che trucca cazzo corretto ho quasi finito l'altra volta come se mi fiamme si sbriga lucido questo è proprio uno sbadasciamento dell'ultimo secondo oggi è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana se pensate che io prima odiavo il venerdì adesso quasi lo amo perchè è l'unico giorno che a parte la spesa non ho impegni quindi anzi è finito pure il corso d'arte mi dispiace che l'ultimo l'ultima giornata la persa perchè io ero a Milano vi dico solo che sta al bagno da 10 minuti e se doveva solo lavare i denti perchè tutto il resto ce l'aveva fatto in effetti volevo fare un mi preparo con voi ma col fatto che non posso parlare veniva una palla dopo venivo mi preparo con voi ASMR vado dei pipi cream stamattina eccolo ecco le vede del lato si mi sono messa la catena prima del tempo stamattina ho pure gli orecchini perchè è uno dei quei giorni che sicuramente mi dimentico di mettemeli stasera siamo a cena da amici nostri io solo con Stefano perchè l'illoggio attacca a luna e stacca un po' tipo stanotte che palle ho certe volte vorrei che mio marito facesse un lavoro d'ufficio primo per gli orari secondo perchè comunque si stacca da voi cioè comunque il lavoro dei cantiere non è bello anche se ne ringrazia sempre Dio poi finisco le trucche allora stamattina mi sono legata i capelli perchè ero tipo sconvolta c'è anche Pampurio che si è alzato alle 8 e quindi per lui è come aver dormito 10 ore e quindi aspettate c'è il sole d'indaloc ha deciso che ci accompagna a scuola madonna si stanno appena tutti i vetri ha deciso che questa mattina ci accompagna a scuola e poi a luna va al lavoro perchè come avevo accennato oggi fa un orario un po' particolare e nulla bombolino stamattina prendo il caffè col mio amore ah oggi mi vedo il viso leggermente meglio morbo leggermente mi parlo tipo veramente in cavallo senza offesa per i cavalli è certo che sei tu il mio amore Stefano ah vabbè papà è il mio amore da grande tu sei il mio amore da piccolo amore ma poi non dirlo a nessuno l'amore mio per te è unico lo sai? tu quanto mi ami? solo? anche di più ma di solito mi dici oltre l'infinito e oltre eh mi dici oltre l'infinito ah stamattina non mi ami oltre l'infinito ah ti amo molto tutti gli infiniti ah meno male va anche io allora le fa freddo perchè stamattina fa 7 gradi e credo che sia una delle mattine più fredde perchè di solito ne fa 10 12 11 anche 13 l'ho detto l'altra mattina alle 5 14 gradi 15 gradi quindi si stava da paura stamattina è freddo cioè proprio il freddo ti penetra come si dice il padiglione auricolare ragazze di venerdì mattina alle 11 a casa dalla spesa è un sogno spalanco tutto perchè mio marito è stato a casa fino adesso ma non è che ha aperto una finestra aria poi a me mi verrebbe da aprire la serranda proprio tirarla su per far entrare un po' di luce un po' di fresco ma dovete sapere che aspettate collasso un attimo oh oh madonna raga dovete sapere che praticamente se io tiro su la serranda mi entrano i piccioni in casa e quindi tendo a tenerla sempre bassa ora mi rilasso proprio due secondi e poi mi metto a posto la spesa uff oddio dicevo su instagram che il mio unico vero momento di relax oggi o relax come vi piace di più è stato stare ben 20 minuti su water ebbene sì mi sono rilassata come se non ci fosse domani come se non lo so so quelle sensazioni tipo che te metti lì perchè io di solito veramente non faccio un tempo a fa' tutto né pipì né quell'altro tiro a cadena ancora quelle mutande tipo tirate giù no? invece proprio mi sono messa lì mi sono rilassata proprio veramente come se fossi stata tipo a una spa a non lo so qualcosa di veramente super rilassante allora ho fatto la spesa non dovevo prendere tantissime cose perchè eravamo andati alla libia ma ho ricomprato l'insalata perchè è l'unica fonte di verdura che è morbidina e quindi ogni tanto la posso mangiare crostatine per gnappo sapere che vedevo? siccome io mi sa che non c'ho il video per oggi io faccio una svuota la spesa fermi lì poi lo vedrete nei prossimi video veramente mi sa che vedete prima di questo aspettateli girato lo svuota la spesa sempre dinamica come vi piacciono a voi i miei svuota la spesa non so perchè mi piace farli a mode tele vendita non so per quale motivo mi piace mi piace mi piace comunque vi posso dire madonna ma io c'è da metà la roba c'ho il frigo pieno madonna quanto mangiamo raga io io vorrei fare le tele vendite cioè mi ci vedo proprio però la cosa strana è che perché io sono molto timida anche se non sembra e quindi quando anche quando sono andata all'evento tutte lì che si mettevano a fare foto giustamente no? tipo così chi così chi così a me mi dicevano vieni a fare la foto io così dico dico raga sapendo mettere le mani no raga va bene io sono troppo timida cioè un conto è con voi che vi conosco un conto è con la telecamera che non c'è nessuno che mi guarda e un conto è a mettermi tipo così no? non ci riesco non ci riesco proprio ma che se sono fregati i servittini? buttacci di pippa comunque metto a posto tutto sto ambaradam in realtà si è fatto quasi mezzogiorno e devo andare a prendere Stefano oggi però gli faccio queste che ho preso al Rewebs perché lui aveva qualcosa di diverso e allora siccome lui bene o male mangia sempre pulito ho deciso che oggi si può mangiare pure una schifezzuola e quindi gli faccio questo ieri si è fatto una bella minestra di paste e ceci poi gli arriva una giornata un po' più iginosa un po' umida quindi l'ha mangiata molto volentieri e poi gli faccio una bella insalata con la rughetta che a lui piace tanto e i pomodori che non ho comprato ma ci li dovrei avere sperando che non mi si sono rovinati sto preparando le confezioncine regalo con i regalini delle mie amiche le scaturine le ho fatte nello sguardo alla spesa l'ho preso è diverso ovviamente ci voglio mettere un po' di purpurri anche se neanche profuma dalla busta c'è un po' più non cazzo praticamente e c'è un filo dentro ecchi me rega guardate qui le pizzottelle che ho fatto a mister bo ma sono carine se sono gonfiate però forse dovrei fare una cotta sotto dice 5 minuti però mi sa che ce le rimetto un attimo io ho un hamburger con una bella insalatina e ho messo pure una piada è l'ultima questa la metto proprio vabbè proprio due minuti due minuti ma che stai a fare mister bo? non so le carne intanto stasera mi trovo la prima tanna a cena voi ho detto che stiamo a cena con amiche mie stasera? no con le amiche con proprio tutto il nostro gruppo di... insomma il solito gruppo vabbè allora come voleva si dimostrare mi avete chiesto nel vlog di ieri dove avevo preso la catenina quella con le stelline questa è la seconda indossata guardate la meraviglia io devo ritrovare la mail di dove... porca paletta di qual azienda? aziende metteteci viene da questo viene da quest'altro perché sennò non ci si capisce niente anche perché io le ho ordinate e sono arrivate talmente tanto tempo dopo che neanche ricordavo più di averle prese per questa collaborazione mi dispiace azienda che mi stai guardando fatte viva perché io non so da dove provengano queste meraviglie mi piace troppo rendere il piatto di mio figlio divertente a parte che non ci ho bisogno di renderglielo divertente perché questo tra un po' si mangia pure a noi cioè tipo un bambino mangia genitori ogni notte in preda un raptus di fame l'altra volta quando sono tornata da Milano aveva mangiato da mia madre e mia madre mi ha detto che aveva mangiato come un porco e praticamente alle undici e mezza quando sono tornata a casa lui ha pensato bene di dirmi che aveva ancora fame e praticamente alle undici e mezza cioè gli ho dato due tre biscotti mi sono mangiato i biscotti cioè questo ragazzino mangia meglio così cosa avresti da ridire sul piatto che ti ho creato? beh ti mi ha creato questa cosa gli occhi gli occhi e la bocca ma io gli ho detto la maiole se non ho qua potete metterla qua al centro per fare il naso hai ragione non ci ho pensato amore perché mi è venuto in mente dopo di fargli il faccino va bene oltretutto non gli sta manco bene hai capito come? buon appetito amore buon appetito piatto pulito buon appetito piatto pulito buon appetito ma perchè adesso ci muoce la maestra così muoce invece guarda guarda che quelle ustionano perchè dentro c'è il prosciutto no non era così che doveva andare allora cosa facciamo adesso? dobbiamo inventarsi un altro modo per farli rinforzare l'infestazione intelligente? sì ma ho un'emergenza vorrei segnalare un'infestazione basta e forse vuoi iniziare con i discaci e dici signora crone mangiare del cibo allo stesso tempo parimpampum eccomi qua parimpampum ma chi lo sa se babbo mamma etoshio lo sa anche io son proprio io la storia che parla da sola perchè praticamente sta caricando cioè non caricano se stories non carica amore che mamma andiamo? la canottiera nei pantaloni primo ti devo pettinare allora pep pronta sto andando dai miei amici sono già vestita praticamente sono vestita come mi sono vestita all'evento perchè sono stata comoda e mi sono messa i pantaloni c'è un bordello comunque i pantaloni questi qua che ho preso da calzedonia vero è che a milano mi sono gelata tipo il culo se non ci avessi avuto il parca quello che c'è comunque a mezzo culo mi sarei gelata perchè comunque il pantalone dentro il patino è caldo però c'è il problema che a milano non è che faceva 18 gradi ne faceva tipo 8 e quindi le mie chiappe si sono gelate abbastanza non ho messo i tacchi ho messo gli anfibi hai fatto adesso fettino Stefano e mi voglio mettere come giacca la giacca di pelle con sopra la pellicciotta che secondo me stasera ci sta molto bene eccoci buonasera al te stesso stiamo facendo lo brindisi si è cercato in giro cc 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 ma che fai? non toccare l'occhio divino? di vino vino l'occhio divino t il vino vino l'occhio divino Ragazzi qui la mia amica Lorena ha fatto le pennette alla vodka stasera e si è inciucca malagrande. Io questo di bicchietto, sento stappatevi un fatto, sembra che stavi a far me a Gryan. L'altro giorno ho ribeccato il vlog quando siamo andati a Roma Est e tu mi hai fatto fare la colazione, non ti facevi ancora vedere. Per coloro che hanno apprezzato i miei capelli mi dispiace. Ah è vero, è vero, che bei capelli la tua amica, che bei capelli la tua amica, ricrescono, ricrescono. Il bello è che quando io lo vedo che è stato, che c'è il sonno, lo guida, vedi lui che guida così, ma è così. Sveglio! E io. Ah ma tu non parli, lei parla! Io lo fisso aspettando che fa così con l'occhio e dai e... Che cazzo! E non è! 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 E intanto abbiamo passato tre caselli, lui ha occhi chiusi. Quando lui ti dice, io guida occhi chiusi, tu fai... E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! Grazie! Grazie! Che surprise! Lillo! 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 Ma se è quelli che stanno bevizzati a questo anno! Tu periccia per te lo! E' vero! Lillo! 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 Sono manca d'Italia! Auguri! Cosa ti ci hai? Manca d'Italia! Ciao nano! Ciao! Bevi Charlotte! Non lo so lo so! è bello è che la prima cosa ho pensato dove la trovo? adesso l'altra data io amo i miei figli ma sono insopportabili bene allora praticamente lei è Sharma io sono Carrie le altre due sono zucca un po' muovete quella che fa lei è Samantha ma non è una coscienza sembra data Matilda data Matilda l'hai vista mai? no ma non male Scusa puoi riprendere la finezza del tuo marito un attimo la finezza del... oddio oddio ma dove va questo? Demi che mi volevi dire? la smetti? lei è l'avvocata Miranda Miranda è la che fa le verti ma le Miranda dice vabbè sono subito da lei sono subito da lei io stavo facendo un discorso abbastanza triangolo noi domini siamo sempre triangolo no vabbè è un triangolo è un triangolo ma un altro tipo di triangolo io vuole 3 bicchieri mi ha mischiatato mi ha mischiatato mi ha mischiatato mi ha riportato ma non mi mi ha sbagliato mi ha sbagliato mi ha sbagliato ma non mi ha sbagliato mi ha sbagliato i miei 60 anni guardate qui ragazzi che serviamo? ma non vergognate queste come si chiamano? misse cervelli? le Claire eccolo sono piccoli eclair quelle allora quanti caffè signori? io caffè vietta a mangiare ho capito sparate due palle dove sento me sei sicuro? sei sicuro che ho fatto ma no le dormite vabbè fammi cercare il nuovo pure io ti do questa passarella mi do qualcosa si mappa brutta allora ma questa che ci sta dentro? allora zoommelo sta registrando? questa? crema pasticcera? quella è crema crema è crema crema pasticcera sta in pasticceria no è crema crema quella vuoi andare vai se fa schifo se fa schifo li andiamo a dar pasticcera quella è zabaione come la crema è quella rosa è zabaione no è crema è alcolica è alcolica no oggi è diverticola è diverticola è nuovo insulto io mai mangerei questo cannolo bianco quello è zabaione scusa è diverticola poi ma ti stai diverticolando qualcosa con la crema pasticcera o magnatela qualcosa lì no no ma guarda che se devi usare una mano sola forse non hai capito è veramente diventata devi usare una mano sola guarda posso? no chi comincia? vai dai come te? come ce l'ho fatto? saluto guarda devi usare una mano sola non puoi usare due mani è saluto devi mettere sopra ma che fai Villo? anza ora villo che fai Villo? ma questa casca su ma questo casca su quindi tocca a me toccheresti a me chi era? si sposta tutta è pieno nel deserto crotono grande sabri ce l'ha fatta tanto a te che casca grazie non mi casca aspettate fermi questa è una cosa ancora più difficile ma ferma non tocca no se muove tutta ma ne devi muovere quelli se sta muovendo tutta ma che devo fare? cambine fin altro no io ce le metterò su io la cucchiata va piano va piano va piano ok si 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 poi mi metterò a sasto ma muovere si 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 ma che io ti ha cascato ma ho capito vai dai mi pare zoro sto guarda dai dai ah una cosa rischiosissima belli vai ahah ti mette sopra sto facendole io sto facendole io sto facendole io cosa sto facendole io mamma mia sai come se chiamiamo il nonno fiat e potresti fa un orologo così non c'è tu no mi pare o probl pat mi pare ma mi pare ti fai ti fai Con sta mossa guarda ti ha incastrato Ecco la ti ha mostrato lo schermo Ma raga sto sudo Si si Grande Da quant'è che siete debili là Concentrazione Nole Ormai l'hai preso che cacchio sta a fare E che mo ce provo si venemo Ma ti fa così Ale vai Ma mi sa che sta a venire Sei emozionato Ma che era Ma l'hai levato Ma l'hai levato Bravo Bravo Grande Il dilacimento del peso Concentrazione della gerberina Che ha visto Fami frasi Allora studia la telemetria Plus simetria Gravità No Plus simetria Gravità Dinamica dei fluidi Ma a parte spostati di qua Che schifo Guarda lo fai cadere Guarda lo fai cadere Mamma mia Oh 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 Aspettate E' io che pallavo Grande Ciao 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 E' delicatissima Ammazza Ti ricostruisco Dalla chiedita Allora 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 Non puoi vedere Ma che puoi vedere Tutti i nostri Oh Grazie Alessio Alessio Questa può essere Piuma Oggi è stata una piuma Oggi è stata una piuma Stasera è ferro Mi sono trovata Ha trovato il buco giusto Aspetta Una mano No Era meglio quella che uscita Allora No 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 giusto Eh Scusate Casi Elsiste Hahahaha Casi Furale Pure Pure Agudo Sesta crema Scusate Si guarda Ci ho ampocutcia E' stai cresciuta la bamba Sì, mi metto la mia! Parole a Ezio! Che difficile! Oddio, regagnato! Che direzione di là! Oddio, non so se ti guaggia! Genga! Guarda Lil! Dai, ma la testa di c***e! Chiedi lo spino! Allora, non tappo! Vieni parte di noi! Io ho detto che questa stampizzo si è seria! Guarda che c***o c***o, eh! Questo è per tutti così! Vado! Sto capicollando la sua! C***o! Dov'è cammino? Ho capito! Oddio! Ma appoggia che gli casca, è matematica! No, no, ancora lì! Guarda eh! Ma guardate questo, sediane da solo! Ma dura Sabrina! Ah! Ah! Ehi! Grande! 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 Grande Sabrina! Ciao! 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 Buona, dai! Bravissima! Ragazzi, due di notte! Pure n'antichia in più! Però mi sono struccata tutta! Vi do una buonanotte e ci vediamo domani! Besos! Grazie a tutti.